Lei ha già programmato le vacanze? No Stella, non programmo niente perché ho una certa età e no ma se posso vado, vado con mia figlia che ha una casetta in Croazia. Non abbiamo niente in programma ma abbiamo già fatto e quello che abbiamo fatto ci basta intanto. Noi facciamo sempre l'Abruzzo ed è bellissima, noi abbiamo fatto sempre la rivela adriatica, è una meraviglia, tranquillo e adesso che c'è anche poca gente. Faremo qualcosa sicuramente, adesso vediamo. Non avete prenotato ancora niente? No, qualche idea, qualche sogno? Tanti, tanti. Comunque il periodo più o meno, quando è che andrete via? Anche agosto, ovviamente. Sicuramente, un classicone, sì. E ci sarebbe voglia di fare cosa? Mare. Mare, sicuramente mare. Poi per il momento non vado in vacanza, comunque insomma. Non ha programmato nulla per questa estante? No, andrò magari un po' in montagna ma verso settembre. Abbiamo programmato le ferie perché siamo dall'Australia e allora ogni anno si veniva abbassando del grave, però per tre anni, come lo sai, il Covid ha rovinato tutto. E adesso siamo qui ancora. È bellissima, come sempre, Bassano. Come mai questo amore per Bassano? Perché è bello, c'è un bello, come dice, gente è bella, mangiare, bere, tutto il coso. No, non ho programmato, penso che non andrò da nessuna parte. C'è voglia di vacanza? Beh, ovvio sì, sempre. Lei ha già programmato le sue vacanze? Sì, sì. Posso chiederle dove andrà? Sì, al momento Grecia e montagna. Ok. Insomma, un bel programma. Sì, sì. Si muoverà con la famiglia, immagino. Avete già prenotato? Sì, ho già fatto tutto perché l'anno scorso eravamo, non alle strette, ma nel senso c'era tanta voglia di muoversi anche l'anno scorso e quindi onde evitare, magari code, ombrelloni, prenotazioni, eccetera. Quest'anno mi sono tutelata e ho già fatto tutto con largo anticipo. Grazie.